Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di piccozze, nel particolare quelle di Singie Rock. Vedremo il modello Edge un pochino più classico e il modello Bandit un pochino più pensato anche per le cascate di ghiaccio. Adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo dunque dal modello Singie Rock Edge. Queste piccozze pesano 550 grammi l'una e parliamo di una piccozza lunga 55 centimetri. Sono delle piccozze pensate per fare dei canali di ghiaccio per utilizzarli per alpinismo classico. Sono delle piccozze che hanno una piccola curvatura del manico nella parte finale. Questo le rende veramente molto ideali per andare a fare canali magari non troppo ripidi dove proprio c'è da utilizzare la piccozza imbattuta ma canali sicuramente un pochino più stabili all'alpinismo classico. Per quanto riguarda la parte superiore della becca innanzitutto la piccozza certificata T. Le becche sono fatte molto molto bene. Io le ho utilizzate anche per picchettarle un po' nel ghiaccio e anche su roccia visto l'inverno un po' asciutto che sta facendo. E comunque devo dire che tiene bene. Poi volendo sul sito di Singie Rock si possono acquistare anche altri tipi di becche un pochino più magari pesati per il misto. Però devo dire che io con questo mi sono trovato veramente molto bene. L'ho utilizzato, queste piccozzelle, le ho utilizzate veramente veramente tante. Ci ho passato le 15 uscite e la punta è veramente ancora in ottime condizioni. Sulla parte posteriore troviamo o un martello o la paletta. Naturalmente è base a quello che decidiamo di comprare se non vogliamo comprarle entrambe. Sono sostituibili con altri oggetti che troviamo sempre in vendita sul sito di Singie Rock. E devo dire che la parte superiore mi ha convinto abbastanza. Il manico, come dicevo, è curvo solamente nella parte finale. Questo gli permette di avere comunque una buona lunghezza nel momento in cui dobbiamo andare a utilizzare per fare dell'alpinismo classico. E se dobbiamo utilizzarlo in battuta ogni tanto su qualche canale comunque ci aiuta nella perforazione. Devo dire che a livello di manico mi sono trovato molto bene. Io l'ho massacrato abbastanza. Nel senso che avendo fatto anche diversi cani su roccia davvero ha un sacco di graffi. Ma comunque sono ancora in ottime condizioni. Dal punto di vista dei materiali nulla da dire. L'unico aspetto però che vado a sottolinearvi è che la vernice è molto lucida e questo non gli dà un gran grip per il momento in cui andiamo a impugnare le piccozze appena sotto la becca. Diciamo nella parte alta del manico. Qui se non si hanno dei buoni guanti tende un pochino a scivolare la piccozza. Nella parte inferiore invece non troviamo un'impugnatura classica ma troviamo un'impugnatura molto rastremata che è fatta semplicemente da quattro serpentine a zigzag che hanno un'alta abrasione. Devo dire che comunque lavorano bene. Soprattutto con un buon quanto si riesce ad avere una buona presa non scivola via. L'unica pecca che andando ad utilizzare tanto nel tempo tende un pochino ad andare via questa parte. A me in una piccozza sta già iniziando un pochino ad andare via. Nella parte inferiore poi troviamo anche la classica punta che ci aiuta per perforare il ghiaccio mentre utilizziamo la piccozza per fare alpinismo classico. E poi diciamo che comunque in generale è un'ottima piccozza un po' polivalente. Come dicevo possiamo utilizzarla per alpinismo classico ma comunque pensateci bene perché sono 55 centimetri e se siete troppo alti non è proprio l'ottimale ci vorrebbe una piccozza più alta. Sia per andare a fare dei canali quindi veramente diciamo un'ottima piccozza polivalente per tutto quello che è l'alpinismo più semplice. Se invece vi piace fare alpinismo più complicato più tecnico e anche cascate di ghiaccio ora parliamo delle single rock bandit. Queste piccozze appunto sono pensate per tutta quella parte di alpinismo che va dai canali più ripidi alle creste più affilate fino alle cascate di ghiaccio. Iniziando dalla parte superiore anche loro naturalmente sono piccozze certificate T. Hanno un'ottima becca molto sbananata che grazie anche a tutta quella che è la struttura della ciaspola. Ma quando andiamo a utilizzarle per fare le cascate di ghiaccio in più le trassioni devo dire che lavorano veramente molto bene. Entrano molto facilmente nel ghiaccio e in dotazione sulla becca vengono dati anche dei pesi da 50 grammi proprio per agevolare l'ingresso nel ghiaccio. Soprattutto poi questi pesi gli danno un bilanciamento molto aggressivo da questo punto di vista. Una becca che anche lei è sostituibile volendo si può prendere la becca da misto se si dovesse andare a fare delle vie di misto. E nella parte posteriore anche lei è composta da paletta e martello. Decidete voi quale volete acquistare, quale il tuo piacere di più. Però comunque anche loro sono ottimi e sono anche sostituibili. Per quanto riguarda il manico, beh, questo è decisamente molto curvato. Soprattutto per aiutarci nel momento in cui andiamo a fare le cascate di ghiaccio o i canali più ripidi. Devo dire che come curvatura mi è piaciuta perché è un ottimo compromesso per riuscire a fare queste due attività. Non è così stretta come una piccozza vera da cascate, ma non è nemmeno così dritta magari come le edge che abbiamo visto prima. È davvero un'ottima via di mezzo. L'unico po' appunto che ci tengo a fare è che anche qua la vernice lucida tende un pochino a scivolare se andiamo ad utilizzare la piccozza nella parte superiore del manico. Invece per quanto riguarda l'impugnatura ne abbiamo due. Abbiamo un'impugnatura bassa classica costituita da due fascioli di gomma a diversa densità che lavora bene, davvero si riesce a utilizzare molto bene come piccozza e anche quando fa tanto freddo non ha problemi. L'unico aspetto naturalmente è che quando andiamo a fare le cascate di ghiaccio non è così ergonomica come una piccozza da cascata di ghiaccio pura. Questo è sicuramente da sottolineare perché il manico ergonomico questa piccozza non ce l'ha. In più sull'impugnatura troviamo anche due accessori, una superiore e una inferiore che ci garantiscono una miglior presa della piccozza e queste accessori si possono anche togliere nel momento in cui andiamo a utilizzare la piccozza magari per fare dei canali, se vogliamo alleggerirla e soprattutto avere un'impugnatura un pochino più classica. Sempre per quanto riguarda l'impugnatura poi abbiamo anche la possibilità di impugnarla sopra questa impugnatura più tradizionale perché anche qua troviamo le bande a maggior grip che abbiamo visto sulle piccozze di prima, sulle edge. Devo dire che come tipo di impugnatura va bene, ha un ottimo grip, se doveste averne bisogno è presente anche questa impugnatura superiore. Dato che come vi dicevo queste non sono delle piccozze vero e proprio da cascate di ghiaccio, nella parte inferiore troviamo anche la classica punta per andare a utilizzarle su dei canali o facendo l'alpinismo un pochino più classico. Devo dire che in generale come piccozze sono fatte veramente bene. Pesano 610 grammi l'una, sono delle piccozze che se fatte dall'alpinismo tecnico sono l'ideale. Sono l'ideale soprattutto se volete fare un acquisto senza stare a dover comprare magari delle piccozze tecniche per fare cascate e delle piccozze un pochino meno tecniche per fare canali ripidi. Ma arriviamo comunque alle conclusioni per queste piccozze, iniziamo dalle edge. Vengono vendute a un prezzo tra i 90 e i 100 euro? Ve le consiglio sì, soprattutto perché come vi dicevo vanno bene un po' per tutto, dal pinismo più classico ai canaloni. Per quanto riguarda invece le Bandit, loro vengono vendute circa a 160 euro l'una. Io ve le consiglio perché sono delle ottime piccozze tutto fare, con quali poter fare anche delle cascate di ghiaccio. È proprio questo prezzo economico, perché comunque delle piccozze da cascata pura di solito stanno sopra i 200 euro. Mi fa davvero consigliare di comprarle perché sono un'ottima alternativa, più economica, ma comunque con tante feature. E detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esauramente risaustivo, vi ringrazio che ho guardato anche questa recensione, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!